presento oggi un cocktail del mio collega eric viola lui ha creato a sarzana twist sul negroni utilizzando il persichetto al posto del vermut è una variazione sul negroni quindi un cocktail prettamente da aperitivo ma che volendo può essere anche consumato come after dinner partiamo con raffreddare il bicchiere dove poi andremo a preparare a servire il drink dopodiché partiamo con la preparazione tre quarti d'oncia di bitter campari un'oncia di gin uno spunto di ferne componente più importante il persichetto anch'esso in tre quarti d'oncia dopodiché andiamo a tirare col ghiaccio il nostro drink mettiamo l'acqua in eccesso e versiamo il drink nel nostro bicchiere andiamo a guarnire con uno zest d'arancia quale spruzziamo sul nostro drink gli oli essenziali ecco qua il nostro camillo sulla luna 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 ecco qua il nostro camillo sulla luna